Hobby, catalogo giardinaggio 2024 Il nuovo catalogo Hobby 2024 presentando una vasta gamma di prodotti per la cura e la bellezza del tuo giardino sono disponibili opzioni per ogni esigenza e preferenza gli attrezzi da giardino proposti includono soluzioni moderne e versatili per la potatura e il taglio, tutti resistenti e facili da utilizzare il catalogo presenta anche vasi e fioriere per ogni tipo di pianta e spazio tagliaerba elettrici a scoppio e a batteria di diverse potenze sono disponibili nel catalogo per mantenere il tuo prato sempre perfetto inoltre ci sono molte opzioni di taglia siepi per siepi e arbusti folti le motoseghe nel catalogo Hobby 2024 sono adatte a tutte le esigenze dalla rifinitura all'abbattimento di alberi pesanti il catalogo offre varie opzioni pluripremiate contrassegnate per la loro leggerezza e facilità d'uso inoltre ci sono